E' stato notato accovacciato a terra mentre approfittando dell'oscurità stava forzando i distributori automatici con un'asta di metallo. A sorprendere il ladro un agente di polizia di Arezzo libero dal servizio. E' successo nella notte tra domeniche e lunedì attorno alla mezzanotte nei locali di Autolinea Toscane alla stazione Ferroviaria. Il poliziotto stava passando in zona quando ha notato strani movimenti della struttura. Si è così avvicinato senza farsi notare e poi ha chiesto aiuto alla polfer e alla squadra volanti. Gli agenti hanno così presidiato entrambi gli ingressi del locale e poi sono entrati cogliendolo in flagrante. Il ladro era già riuscito a prendere un cassetto portamonete di uno dei due distributori mentre era intento a scassinare l'altro che già presentava evidenti segni di forzatura. Per entrare il malvivente aveva forzato la porta antipanico dell'uscita secondaria, presumibilmente con la stessa asta di metallo con cui stava forzando i distributori di snack e bevande. L'uomo, trentenne italiano con vari precedenti, è stato arrestato per furto aggravato. Ieri il processo per direttissima, al termine del quale l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma.